Che cosa è successo qui in via Bedrucci? Dunque qua da venerdì pomeriggio non si sono più visti mezzi spazzaneve e come avete potuto vedere la condizione è questa, una via totalmente bloccata ed essendo a vicolo chiuso in pratica si è accumulato durante il blizzard due dune da circa due metri di neve, quindi siamo non bloccati totalmente perché riusciamo ad arrivare al pollicino, però per qualsiasi mezzo di emergenza è assolutamente impossibile raggiungere questo vicolo. Ci sono stati problemi? Qualcuno si è sentito male? No, per fortuna no che io sappia, però appena ho visto una dichiarazione nel profilo Facebook del comune di una ragazza che abita qui, ho pensato anche io appunto di lanciare questo piccolo allarme, so che le emergenze ce ne sono altre di ben più gravi, però con il ghiaccio che verrà nei prossimi giorni l'unica modalità attraverso la quale riusciamo ad arrivare alla strada principale è questo tunnel trincea che ci siamo scavati attraverso le dune, quindi vogliamo sollecitare giustamente l'invio di spazzaneve o di turbine se sono ancora a disposizione. C'è stata già una risposta dalla parte del comune o della protezione civile? Ancora no, io l'ho mandato venerdì, ancora meglio la sede della protezione civile regionale, ma ancora nessuna risposta normale, magari saranno intasati le richieste, ma ad oggi non c'è arrivato nulla di risposta e al profilo facebook del comune ho lasciato un messaggio circa due ore fa, adesso ancora nessuna risposta, comunque spero che arrivino presto. Da queste parti sono visti gli studenti sparatori, qualcuno vi ha dato una mano? No, l'unica presenza è che c'è stata quella di due camionette dell'esercito che però sono andate soltanto all'hotel Tortorina per il pranzo ieri mattina, nessun altro per ora. Grazie a tutti.